Cinzia Scafidi chiede giustizia per il figlio, morta a scuola a soli 17 anni. La battaglia di questa madre e dell'intera famiglia non si ferma nelle alue di un tribunale, ma continua nei palazzi della politica. L'obiettivo è quello di impedire che si ripeta un altro 22 novembre 2008. Per questo chiede che venga garantita la sicurezza nelle scuole e ieri ha incontrato i rappresentanti regionali. Un incontro per capire le intenzioni del Piemonte sui fondi statali già stanziati per gli interventi negli edifici del territorio. Il bilancio lo vedremo alla fine se davvero faranno quello che hanno promesso, quindi che oggi si parlerà di sicurezza nella scuola e se davvero prenderanno un impegno che si andrà a fondo a questa storia dei fondi. Perché se si fanno solo parole, come è successo già diverse volte, sono parole al vento e di parole non si aggiustano le scuole. Però noi siamo pronti a lottare. Accanto alla famiglia, dal giorno del crollo del Darwin, libere Acmos. Per noi che vogliamo essere educatori di cittadinanza, il tema della sicurezza nelle scuole è diventato un tema imprescindibile. Scegliere un modello di scuola significa anche cercare di costruire un modello di società. E allora delle scuole che non siano accoglienti, delle scuole che non siano sicure, sono delle scuole che mettono in discussione il concetto stesso di accoglienza democratica. Libera in particolare ha sottolineato l'importanza di tradurre in legge la proposta contenuta nella piattaforma L10 Piemonte di un piano regionale sull'edilizia scolastica per garantire la sicurezza. Il 22 novembre del 2008 tutti noi abbiamo perso un figlio, un fratello, un amico, un compagno di scuola, un compagno di calcetto. Il 22 novembre del 2008 con il crollo di quel soffitto è crollato anche un pezzo della giustizia e della democrazia nel nostro paese. Per questo Libera ha scelto di inserire all'interno delle sue piattaforme di richieste politiche il tema della sicurezza nelle scuole. Per questo Libera insieme alla famiglia Scafidi continua a chiedere sicurezza nelle scuole, continua a chiedere di contribuire attraverso i fondi a rendere più sicure le nostre scuole affinché quello che è accaduto a Vito non si compie di nuovo.